Se stai riscontrando problemi riguardo al crash sul gioco Silent Hill 2 Remake ovviamente se ti esce tipo un errore come questo e quindi quando vai ad avviarlo oppure quando stai giocando ti può crashare e ti esce questo errore delle Unreal Engine quindi in questo caso andiamo prima sul sito che ti ho lasciato in descrizione per scaricare e installare i driver per la tua scheda grafica perché è proprio quello il problema che i driver sono obsoleti quindi non funzionano bene sui giochi quindi in questo caso vai anche a scaricare il programma Nvidia App se hai una scheda grafica Nvidia quindi vai a scaricare e installare così questo software quindi scarichi la beta e la installi e vai a scrivere qua sopra Nvidia App ovviamente Nvidia ti permette di configurare la grafica sui tuoi giochi e aggiornare i driver sulla tua scheda grafica driver game ready questo è per i giocatori driver game ready e questo qua invece driver studio per chi usa il computer per lavorare vai a cercare così l'aggiornamento da fare lo installi e hai fatto una volta installato devi riavviare il sistema se non dovesse bastare possiamo direttamente scaricare il nostro DirectX software development kit scegli così la lingua da scaricare quindi installare quindi scarichiamo così il pacchetto aspettiamo che si scarichi così il software e andremo poi ad installarlo una volta scaricato installiamo così DirectX SDK ed eccolo qua fai avanti accettiamo così tutto e avanti facciamo avanti facciamo avanti in caso ti esca così questo errore installazione errore quindi non ho potuto scaricare installare questo pacchetto fai direttamente fine se riesci a scaricarlo installarlo buon per te ma se non riesci a scaricarlo possiamo direttamente usare il web installe DirectX and User Runtime scarichiamo così quest'altro software lo installiamo e facciamo sì accetto così il contratto rimuovi la spunta da qua sopra fai avanti e installi così DirectX poi per quelli che usano invece una scatagrafica AMD vai su AMD ed eccolo qua AMD software Adrenaline Edition software che è come Nvidia app dove tu puoi configurare, registrare, fare quello che vuoi su questo programma scaricare il software e scaricare anche i driver come fa con Nvidia ovviamente io non posso farti vedere come funziona perché il mio computer non supporta questo software non me lo fa installare quindi ti consiglio di scaricare e installare così questo software e aggiornare i driver della tua scatagrafica AMD se non dovesse bastare andiamo direttamente su impostazioni grafica quindi vai a scrivere qua sopra grafica impostazioni grafica vai direttamente su aggiungi un'app desktop e vai a prendere direttamente il programma di make.exe quindi vai direttamente nella sua cartella di Silent Hill e vai a scegliere il programma e fai aggiungi una volta fatto eccolo qua prestazioni scheda grafica prestazioni elevate io inserisco così la mia scheda video se dovesse bastare fai reimposta e rimetti la tua scheda grafica attivato e basta una volta fatto chiudi tutte le schede tasto destro sul gioco mostra attrapezioni compatibilità disabilita ottimizzazione di schermo intero eseguiamolo sempre come amministratore facciamo ok eseguiamo il gioco e gioco si è avviato ed eccolo qua ovviamente anche per non lasciarti consiglio anche di abbassare un po' la grafica display e grafica modalità schermo io metto senza bordi metto frame illimitati ovviamente posso impostare il retracing per godermi così una grafica al massimo perché è veramente spettacolare questo remake che hanno realizzato sul computer quindi v singolo tengo disattivato per mettere gli fps limitati e basta invece per la qualità di rendering se vuoi la puoi mettere bassa e se supporti il retracing metti on con grafica bassa oppure modalità grafica predefinita oppure anni 90 quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao